Siamo con Francesca, Luca e Iris della Croce Rossa italiana al Forte San Felice per l'operazione di pulizia che ha organizzato Amico Giardiniere, giusto? Giusto, buongiorno. Come mai siete intervenute oggi? Allora, oggi siamo intervenute per continuare il progetto a supporto e a tutela dell'ambiente, del nostro territorio, a supporto degli amici giardinieri e inoltre perché oggi è anche la giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Quindi non c'è modo migliore per festeggiare insieme con le altre associazioni di volontariato. È giusto, oggi c'è la bandiera vostra in comune insieme alle altre bandiere. Bello, me ne ero dimenticata questa, per cui tanti auguri alla Croce Rossa. Grazie, grazie a voi. Tu sei giovanissimo. Sì, 17 anni. 17 anni e ti piace fare, agire con la Croce Rossa? Sì, sì, tutti i suoi ideali di sostegno, al meglio. E tu? Io ho 15 anni. 15 anni, ti facevo più grande, invece sei più giovane ancora. È bello vedere però ragazzi così giovani che si danno da fare nelle associazioni di volontariato. Continuate così allora, bravissimi. E ancora grazie da parte di Amico Giardiniere. Grazie a voi per il supporto. Mi non è sì che qua. Oh shit.